Seconda parte del telegiornale, spazio di piazza grande con Fabio Scocimaro, segretario regionale di Fratelli d'Italia, Arianza Nazionale. Allora, Scocimaro, questa giunta di piazza, fino all'ultimo momento sembrava che in giunta avrebbero dovuto esserci Giacomedi, ma poi però per la legge delle quote rosa e le scelte di piazza avete dovuto mettere una donna, vero o falso? No, è tutto vero, intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Diciamo che ci sta nelle cose, essendo che sono previste quattro presenze femminili all'interno della giunta e sono in base anche alle deleghe che venivano date, abbiamo fatto una scelta. Certo, se fosse stato un altro indirizzo magari era più adatto Giacomelli, si è parlato anche in mio nome, ma io come l'ho specificato già ai vostri colleghi giornalisti, ero disponibile solo per un tempo limitato e con delle competenze ben specifiche per essere chiari, cultura e sport. E quindi abbiamo fatto una scelta che non dava tanto a riempire caselle quanto a mettere persone di competenza. Vista la competenza dell'Elisa Lodi, che è un avvocato che anche fra l'altro ben conosce gli appalti pubblici, chi meglio di lei è all'interno del nostro gruppo per poter andare a scegliere un assessore che abbia i lavori pubblici, che è un assessorato molto importante, molto pesante, non è una cosa semplice da gestire, quindi tutto il nostro migliore augurio a Elisa. Qual è il rapporto tra la Lodi e Giorgio Rossi? Molti voci di corridoio ci parlano di un'invasione di campo da parte di Rossi sui lavori pubblici e la conferenza sul mercato ittico dove rappresenta Rossi, ma non la Lodi e la dice lunga. Io sinceramente non l'ho seguito direttamente, se non con voci di rimando. Può darsi che nel fare i primi giorni Giorgio Rossi, che comunque ha avuto questo periodo per tanto tempo, abbia forse, però in caso di urgenza, parliamo chiaro come sono le cose, diciamo che c'era quest'urgenza del mercato ittico, piovuta da esperienze precedenti, un po' trascurate, perché questa cosa evidentemente si sapeva che andava a scadenza e quindi bisogna affrontarla prima. Roberto Di Piazza e la sua giunta sono trovati a gestire una cosa che non era prevista e che evidentemente in pochi giorni non avevano avuto contezza esattamente delle scadenze, che nessuno lo può fare, non è che hai la coscienza e l'onniscienza di tutto e di conseguenza può darsi che nel fare qualcuno abbia, specialmente nel caso di un assessore nuovo, abbia diciamo fatto una piccola posizione di campo. Non ritengo grave, specie nella fase iniziale, anche perché il nostro neossessore, come tutti gli altri neossessori, hanno bisogno di un po' di rodaggio. Quindi può darsi che sia così, ma non vedo la cosa particolarmente grave, anche perché è importante, non è tanto chi va a presenziare in un posto o nell'altro, anche se questo è importante, certamente se fossi l'assessore competente di una certa disciplina, di una certa delega, non è che mi piacerebbe che un altro facesse quello per cui sono delegato. Però, detto questo, conoscendo l'esperienza di Rossi, mi risulta che in questo caso specifico il sindaco abbia chiamato Rossi di urgenza a 7 di mattina, quindi anche per cavalleria non hanno svegliato l'assessore competente e quindi ci sta, i primi giorni è così, tutti fanno un po' di tutto, poi è importante che una volta che sia rodata la macchina comunale e l'aggiunta che ognuno faccia effettivamente quello per cui è effettivamente delegato. Parlando di sport, l'assessorato ai lavori pubblici in questi anni dovrà fare miracoli perché molte strutture ormai necessitano di interventi. Sì, è vero, abbiamo già parlato proprio da questi schermi, il piatto piange, onestà vuole che si dica che non c'era questa grandissima disponibilità di risorse in passato, vero anche che quando non hai soldi magari ti inventi come trovarli e quindi il problema va affrontato, specialmente le strutture sportive, campi di calcio, ma anche palestre e quant'altro vanno necessariamente affrontati questi argomenti con dei interventi adeguati, specie quelli più urgenti. Penso ai campi di calcio che sono quelli che magari si vedono di più perché ci passi davanti e li vedi che hanno dieci anni di ammortamento e poi non sono più agibili anche perché li utilizzi. Penso alle palestre vecchie. Quindi va fatto un discorso complessivo ma va affrontato subito il problema, anche perché Trieste è una delle città più sportive d'Italia dove lo sport viene praticato a tutti i livelli anche in età non più giovane e anche perché è giusto dare un incentivo, un qualcosa in più a tutti in maniera che si possa migliorare la qualità della vita e perché no anche prevenire quelle che possono essere problematiche che poi possono diventare anche di natura medico-sanitaria. Quindi lo sport fa bene, è bene che il comune, che le istituzioni lo promuovano lo sport per tutti a tutta l'età e chi non lo può fare, penso, non so, i ragazzi che non hanno possibilità di pagare le rette trasportive, intervenga il pubblico o le fondazioni affinché tutti, a prescindere di un incetto di appartenenza, possano praticare lo sport. Tra il primo ed il secondo turno di ballottaggio, Roberto Di Piazza e Deborah Serachiani si sono incontrati per un aperitivo. Lei crede che tra i due potrà esserci quel rapporto di collaborazione per il bene della città? È obbligatorio, tutti gli amministratori quando vengono, quando veniamo a Letti abbiamo l'obbligo di dover spogliarci delle casacche e fare il bene comune. Questo l'ho sempre fatto per quanto mi riguarda, per quanto riguarda le nostre giunte, per quanto riguarda tutti quelli che conosco, quindi non vedo il problema di collaborazione. Poi certamente fra due anni, e noi non saremo tifosi in esponso di questa attuale giunta, per il quale pensiamo che dopo aver vinto Trieste e Pordenone sia automatico la partenza della comandata, con provviso di sfratto da Serachiani, affinché quello che oggi governa il comune di Trieste, il comune di Pordenone, ma anche Gorizia e il prossimo anno probabilmente anche Udine, sia propedeutico al fatto che governi anche la regione. Analizzando i risultati in regione abbiamo notato che stranamente Fratelli d'Italia ha preso meno voti rispetto a quasi tutti gli altri comuni al voto della regione dove voi vi siete presentati. Come mai? È vero, la sticella era posta un po' più in alto le aspettanze di un partito come Fratelli d'Italia barra Allianza Nazionale, che in passato quando andava male viaggiava sul 15% e quando andava bene sul 25%, una volta sola peraltro, e le aspettative di prendere qualcosa di più del 4,3% c'erano, questo è vero. Ma anche detto che in un partito nato da tre anni, con una coalizione dove c'erano tantissime liste e tantissimi candidati di destra nelle altre liste, penso, la battuta fatta da vostro collega, che ha detto che il Consiglio Comunale di Trieste è composto da tanti ex missini, io direi anche da tanti ex AN, tanti ex assessori di Allianza Nazionale che oggi sono assessori in altre liste, quindi purtroppo la sciagurata frantumazione fatta dall'Allianza Nazionale, dal nostro ex leader Gianfranco Fini, ha prodotto questo, cioè ci siamo divisi in tanti gruppi e partiti quando una volta era un grosso movimento forte e compatto. Detto questo c'era anche un'altra lista che ha dato voti, ma penso anche più di una, penso a Fabio Carini, che certamente di sinistra non è, e penso soprattutto alla lista dell'Alessia Rosolai, che certamente non ha preso voti neppure lei a sinistra, e penso che sul maggior bacino dove ha preso voti, non tanto nel centro-destra quanto nella destra di Fratelli d'Italia di Allianza Nazionale, poiché sia lei che Franco Bandelli da questo, dall'Alessia Nazionale provengono. Per cui se le matematiche hanno un'opinione, il 2,8 che ha preso Alessia, io ritengo che almeno un 2% potevano ad andare ad Alleanza Nazionale Fratelli d'Italia nel caso non si fosse presentata, o comunque si fosse presentata con altre liste, una percentuale simile. Quindi l'asticella del 6% che noi ci aspettavamo potrebbe essere tranquillamente raggiunta. Un'ultima domanda, prima di chiudere, da segretario politico di Fratelli d'Italia, cosa si aspetta da questa giunta comunale? Io non mi aspetto che dalle parole passano i fatti, ma non dubbi che vengano seguiti, anche perché il programma non deve restare una lettera morta. Vedete, nel passato la città aveva altre priorità. Ricordo che dieci anni fa, quando finì il mandato di Presidente della Provincia, feci fare un sondaggio nei confronti dei cittadini della nostra provincia, chiedendo loro, con un sondaggio scritto, quali fossero le priorità del 2006. Bene, in testa le priorità c'erano problematiche sugli autobus, nel senso scalino troppo alto o troppo basso, piattaforme per disabili, fermate e pensiline e soprattutto uno dei temi più importanti del sondaggio, non ridette, erano le deiezioni canine, le cacche dei cani. Bene, dopo dieci anni penso che i problemi sono ben altri, con questa invasione che abbiamo di profughi piuttosto che di clandestini, con le problematiche della delinquenza in città, senza fare gli armismi, ma non si sta bene come dieci anni fa, con una serie di problematiche economiche che oggi tutta Europa ha, e l'Italia in particolare ha, quindi da affrontare, sono problemi enormi rispetto al 2006. Questa giunta lo deve fare, lo deve fare il meglio possibile, l'ha promesso e io sono convinto che questa giunta e questo sindaco lo faranno. Grazie a Fabio Scocimano, segretario regionale di Fratelli d'Italia, alleanza nazionale. Grazie a voi, ciao a tutti.